Artur, che gol hai fatto? Il gol è stato bello, però è stato più bello la nostra vittoria, i nostri tifosi e tutti noi. Sono molto felice, abbiamo lottato, abbiamo avuto il spirito giusto e ce la meritiamo questa vittoria. Hai una dedica speciale? Per tutti noi, tutti chiamiamo Verona, certo anche per Moras che è una grandissima persona. È stata anche una giornata speciale per lui e per tutti noi. Il tuo sorriso racconta già le tue emozioni. Questa vittoria non è solamente la vittoria di un darby, ma è la vittoria di un gruppo che vuole continuare a crederci. Sì, certo. Dobbiamo continuare così ogni partita, come ho detto, il spirito giusto a lottare dal primo minuto. Dobbiamo lottare come sarà l'ultima partita. Contro la Lazio abbiamo visto una squadra un po' stanca, avete avuto tempo di riposarvi. Il risultato si è visto, un Verona in campo fisicamente in ottima forma. Sì, siamo stati in difficoltà a Roma, però dopo abbiamo avuto due giorni per riposare. che è stato solo utile, si è visto anche oggi. Abbiamo corso e abbiamo meritato, come ho detto, questa vittoria. Ha udine per provarci ancora? Certo. Ogni partita, con lo spirito giusto a lottare dal primo minuto. Grazie. Grazie.